Stamattina 26 maggio Papa Francesco è stato costretto a cancellare le udienze a causa della febbre. Non erano previsti incontri con gruppi ma non ha ricevuto neanche singole persone a causa di uno stato febbrile. Per via di uno stato febbrile Papa Francesco non ha ricevuto in udienza questa mattina, confermano dalla sala stampa vaticana come spiega fanpage.it le condizioni di salute del pontefice avevano preoccupato non poco lo scorso marzo a seguito del ricovero al Policlinico Gemelli di Roma per un'infezione respiratoria, una bronchite che non ha prodotto versamenti come si è potuto verificare con un'attacca a cuore e polmoni. L'infezione sarebbe stata provocata da un virus il primo aprile era stato poi dimesso. Grazie a tutti!